Tutto nasce in questa terra, il Gargano. Tra il mare, il lago e la foresta, la nostra tradizione bandistica continua a vivere, anche in questo momento di difficoltà. Tutto ebbe inizio nel 2011, oggi siamo tutti uniti virtualmente per darci appuntamento a settembre per l'ottavo raduno bandistica di Gargano. Buon ascolto, io non sbando perché suono a casa. Pronti? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.